Innanzitutto ci troviamo di fronte a un governo confuso che attacca se stesso, perché la conferenza stampa di ieri del ministro Musumeci è semplicemente surreale. Ha attaccato nell'ordine prima il suo collega di governo, il ministro dell'ambiente, accusandolo di tenere fermo il piano sul dissesto idrogeologico. Ha attaccato il commissario Figliolo, commissario nominato dal governo Meloni. E poi ha attaccato la regione Romagna dicendo che ha ricevuto in dieci anni 500 milioni di euro. Però quegli soldi sono stati tutti spesi. Io faccio un invito alla Premier Meloni, la smetta di fare la guerra alla transizione ecologica. Non costruisca il consenso elettorale sui disastri che oggi la crisi climatica produce. Sarebbe irresponsabile. Si attivi e avrà noi al suo fianco per trovare le risorse per supportare la transizione ecologica e il Green Deal.